Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura la politica regionale con una particolare attenzione al bilancio. La Corte dei Conti censura la regione Abruzzo per i ritardi nel riaccertamento dei debiti e nella tempistica di approvazione dei bilanci. L'assessore Silvio Palucci spiega però che è impossibile farlo prima del patto di stabilità del governo. Il servizio di Filippo Tronca. Siamo stati tra le primissime regioni in Italia ad averla approvato il 2 di dicembre. Molte altre regioni in giunta sono arrivate tra il 15 e il 20 e anche oltre di dicembre. In secondo luogo bisogna tener conto che senza la legge di finanziaria nazionale del governo non si conoscono neanche i trasferimenti che vengono erogati alle regioni e quindi è difficile comporre un bilancio non avendo il dato delle entrate. I tempi astratti presi in considerazione della Corte dei Conti non sono quelli della politica, della vita reale e dunque inevitabile per la regione Abruzzo come per tutte le altre regioni italiane approvare oltre le tempistiche stabilite dagli statuti e dalle leggi dello Stato il suo bilancio di previsione, entro ottobre e prima ancora il documento di programmazione economica e finanziaria se prima il governo non ha approvato la sua di manovra finanziaria, cosa che ancora non avviene. Questa è la risposta dell'assessore regionale al bilancio Silvio Palucci alla deliberazione del 3 dicembre della sezione di controllo della Corte dei Conti che è tornata a censurare la regione Abruzzo proprio per lo sforamento dei tempi avvenuti nel 2014 e che si ripeteranno quest'anno e per non aver effettuato la ricognizione dei debiti pregressi. Ma hanno rilevato che nello statuto della regione Abruzzo ci sarebbe scritto il 31 ottobre come tempo di approvazione, tenuto conto che è uno statuto evidentemente datato sul coordinamento tra la legge nazionale e la legge finanziaria regionale. La manovra di bilancio sarà approvata dalla Giunta proprio questa sera e arriverà in Consiglio, si presume, intorno a Natale. Ieri intanto sono state consegnate le rindicontazioni e riaccertamenti dei debiti aggiornati al 2013 con la conferma che sull'Abruzzo grava un salasso da 538 milioni di euro che dovranno essere pagati con rate annuali da 70 milioni. Ma la colpa di tutto ciò, sottolinea Palucci, è delle precedenti legislature. Ci sono 538 milioni di euro di debiti secondo l'ultimo riaccertamento dei residui che è quello del 2013 che abbiamo fatto noi nel 2015 e vorrei solo ricordare che l'ultimo riaccertamento fu del 2004. Ecco perché trovo assolutamente ingenerosi, capziosi e del tutto fuori luogo alcune argomentazioni che utilizza l'opposizione quando per sei anni non ha fatto il suo dovere sul riaccertamento dei residui. Stiamo noi correndo e cercando di mettere rimedio e riparo a quelli che sono ritardi di lunghissimi anni. E adesso torniamo ad occuparci della situazione delle banche perché è un argomento che riguarda da vicino la nostra regione in quanto tra le quattro salvate dal decreto del governo Renzi c'è anche la Carichietti. E dunque vediamo gli ultimi sviluppi nel servizio. Da un lato investitori e risparmiatori, dall'altro chi avrebbe dovuto controllare ed evidentemente non l'ha fatto o l'ha fatto con molta superficialità, leggi Banca Italia e revisori dei conti. Nel mezzo il dibattito politico interno al nostro paese sul decreto salvabanche. ed il braccio di ferro con Bruxelles per le misure di rimborso che il ministro delle finanze Padoan ha definito umanitarie. E' un puzzle complesso quello determinatosi dopo il salvataggio dei quattro istituti di credito italiani, tra cui la Bruzzese e Carichietti. Fino ad ora chi ci ha rimesso è stato chi avendo comprato obbligazioni subordinate si è trovato oggi con un mucchio di carta straccia in mano. Però ci sono da fare dei distinguo. Tanti hanno voluto investire a tratti da tassi di interesse fuori mercato, speculando ed accettando il rischio compensato dall'alto guadagno. Altri, invece, si sono ritrovati con obbligazioni subordinate inconsapevolmente e magari ci avevano messo tutti i propri risparmi. Ecco, questo è lo spartiacque. Non si può certo pensare di creare il precedente, per cui chi specula ha poi il paracadute dello Stato, cioè dei contribuenti. Però, altresì, bisogna tutelare chi è stato truffato. In questo senso dovrebbe essere letta la richiesta mossa dall'Associazione Vittime del Salva Banche al Presidente del Consiglio Renzi di immediata correzione del decreto per il salvataggio delle quattro banche commissariate e la riammissione di tutti i titoli coinvolti alla libera negoziazione sui mercati. Intanto, Unicredit fa sapere di non essere interessata ad acquistare né banca Marche né tantomeno Etruria, Carife e Carichietti per bocca del suo amministratore delegato Federico Ghizzoni. Tutto fermo? Certo che no. Il braccio di ferro, come detto, si è spostato in Europa con il governo italiano che spinge per una soluzione che tamponi il problema e l'Europa, che attraverso le parole del commissario Il dice è il governo italiano a essere alla guida del processo di salvataggio delle quattro banche e ha responsabilità per questo. Il governo italiano, continua poi il commissario, ha discusso a lungo con la Commissione, in particolare con la Direzione Generale Concorrenza che ha ritenuto che le misure prese erano compatibili con la legislazione dell'Unione Europea sui salvataggi bancari. Dichiarazioni che suonano come un no alle richieste italiane con buona pace degli obbligazionisti. Adesso andiamo a Teramo per il ciclo incontro con i protagonisti. Questa mattina nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza si è svolto l'incontro dibattito con ospite Gianfranco Fini, ex Presidente della Camera dei Deputati. Il tema dell'incontro era nuovi scenari geopolitici, migrazione e integrazione. Il servizio di Elisa Leuzzo. Coinvolgere gli studenti in un'analisi critica dei problemi e dei fenomeni che stanno interessando tutta la nostra società. Questo è l'obiettivo dell'incontro dibattito con Gianfranco Fini voluto dal Rettore Luciano D'Amico. Un uomo delle istituzioni che grazie all'esperienza che ha accumulato a servizio delle istituzioni potrà offrire una prospettiva, potrà offrire degli spunti di riflessione per affrontare e inquadrare un tema che è assai problematico e per il quale non abbiamo ancora una risposta già ben definita. Si avvierà una riflessione, l'intervento del Presidente Merito della Camera aprirà un ciclo di incontri con i protagonisti. La legge Bossi-Fini su immigrazione e integrazione, visti i fatti di cronaca, possiamo dire che non ha portato ai risultati sperati? No, la legge risente degli anni che ha, nel senso che la legge prevedeva e prevede tuttora che il migrante che arriva in Italia per ragioni economiche possa avere il permesso di soggiorno solo se ha il contratto di lavoro. Il problema oggi non è più questo, perché di tanti che ne arrivano più della metà chiede diritto di asilo, perché viene da un paese in guerra, perché rischia la vita. Il diritto di asilo è riconosciuto a livello internazionale, l'Italia non si può rifiutare di dare asilo a chi ne ha diritto. È l'Unione Europea che deve dare delle risposte, non possono essere più i singoli stati nazionali. Queste risposte, a mia mano di vedere, significano in primo luogo archiviare e superare il trattato di Dublino, perché anche quel trattato risente degli anni che ha, e poi prevedere sia per il diritto d'asilo, sia per l'alloggio, l'allocazione degli aventi diritto, sia per i rimpatri di coloro che questo diritto non ce l'hanno, degli interventi europei, non nazionali. In questo incontro di oggi, qui all'Università di Teramo, qual è il messaggio e di cosa principalmente vorrà sottolineare? No, la complessità di questa questione. Si parla troppo spesso dei fenomeni migratori come se fossero oggetto della propaganda in campagna elettorale. In più c'è l'enorme questione, di cui si parla pochissimo, della integrazione. Arrivano in Europa, si stabiliscono in Europa, mettono al mondo figli in Europa. Il problema che la politica deve cominciare a guardare, soprattutto noi italiani, che non abbiamo alle spalle un passato da potenze coloniali, è ma fra vent'anni, fra trent'anni, coloro che sono stabilmente qui o che sono nati qui sentiranno l'Italia come la loro patria, anche se non è la terra dei loro padri. Adesso siamo alla cronaca. Posti sotto sequestro dal comando forestale di Ortona, i sistemi fognari di una cantina a tollo e di un frantoio a crecchio nell'ambito dei controlli sugli scarichi nelle aste fluviali limitrofe al mare. Gli stessi scarichi erano privi di sistema di depurazione direttamente convogliati in acque superficiali e nella fogna comunale, come rilevato da analisi effettuate dall'Arta di Chieti, deferiti all'autorità giudiziaria i legali rappresentanti delle rispettive società, nell'ultimo semestre il personale della forestale di Ortona ha sottoposto a controllo numerosi depuratori nel comprensorio chietino, il cui esito si legge in una nota di 25 depuratori controllati con 17 risultati non a norma e con altrettanti illeciti amministrativi contestati. E adesso siamo alla strada, alla Buona Strada, presentato dalla Polizia Municipale di Pescara, un progetto finanziato con fondi regionali denominato proprio sulla Buona Strada, che prevede l'utilizzo di nuove tecniche di controllo del territorio urbano da parte della Polizia Municipale. Da oggi, dalla sala operativa, sarà possibile controllare la dislocazione delle pattuglie nella città di Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti. Il progetto si chiama Sulla Buona Strada ed è un progetto cofinanziato dalla Regione, ovviamente con fondi europei, nell'ambito delle risorse par FSC 2007-2013. si agisce a livello di sala operativa e qui ecco un nuovo brogliaccio elettronico, un nuovo software per quanto riguarda turni e servizi, piuttosto che una georeferenziazione cartografica di un altro aspetto, quindi radio, passaggio al digitale con 55 radio digitali portatile e 15 veicolari che ovviamente andranno ampliate fino a coprire il tutto. e con due nuove antenne radio che permettono di coprire per la prima volta nella storia da un punto di vista di contatti radio tutta la città di Pescara. Un'altra particolarità di questo progetto è il fatto che oggi, grazie al sistema di georeferenziazione, possiamo individuare sul territorio dove sono dislocate operandi le singole pattuglie automontate con immediatezza di intervento ovviamente laddove accada qualcosa sia nei confronti dei cittadini sia di ausilio alle stesse. Ulteriore parte di questo composito progetto è l'adozione di un nuovo sistema di elaborazione dei dati dell'infortunistica, nonché degli incidenti stessi che permette migliore omogeneità di trattamento e nonché maggiori tempi più rapidi di risposta per i cittadini. Si è svolto ieri al Ministero a Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tavolo tecnico per il progetto della variante sulla strada statale 17 che avrà l'obiettivo di velocizzare il collegamento tra l'Aquila e Pescara, presenti al Summit nella Capitale anche il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso e il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. I dettagli dell'incontro nel servizio di Gianmarco Menga. Si è riunito ieri mattina a Roma, nella Direzione Generale per le Strade Autostrade, un tavolo tecnico sulla SS 17 variante sud all'abitato urbano dell'Aquila con l'obiettivo di velocizzare il collegamento tra il capoluogo di Regione e Pescara. Nel corso del Summit è emerso che l'ANAS redigerà entro il mese di gennaio 2016 la progettazione dell'infrastruttura viaria fino all'area di Poggio Picenze nei pressi dei capannoni industriali di Ludovici. Quanto al tratto successivo, per la scelta dell'opzione di passaggio a nord o a sud dell'abitato di Poggio Picenze, sarà decisivo un supplemento di confronto e approfondimento da parte dell'amministrazione e dei cittadini del Paese. Alla riunione convocata dal Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti, Graziano Del Rio, hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, il Consigliere regionale, Pierpialo Pietrucci, Antonio Gentile, Francesco Di Paolo e Raffaele Iovennitti, Sindaci di Fossa, Bariciano e Poggio Picenze, e la Presidente del Consiglio Territoriale di Paganica, Sara Cecala. La velocizzazione del collegamento tra l'Aquila e Pescara è una priorità, ha spiegato D'Alfonso, che va perseguita senza indugio, perché attiene al rilancio e allo sviluppo, oltre che del territorio aquilano, di tutto l'Abruzzo. Il Presidente della Regione ha anche ribadito che la Regione Abruzzo si impegnerà di intesa con i comuni del territorio e con le associazioni territoriali a redigere procedure e progetto per la migliore valorizzazione ambientale, fluviale e culturale nel sito ricompreso tra Onna e San Gregorio. Cambiamo adesso decisamente argomento per aprire una pagina dedicata alla religione e alla spiritualità, perché è stata data alle stampe la nuova lettera pastorale del Vescovo di Teramo e Datri, Monsignor Michele Seccia, una lettera che arriva in un periodo particolare, perché è stato appena aperto il Giubileo straordinario voluto da Papa Francesco. Il titolo della lettera è Dio di misericordia per un cammino comune nell'anno giubilare. Si può definire un messaggio e un invito insieme? Non ci sarebbe stato bisogno di questa lettera, visto che nella precedente avevamo preso un impegno come diocesi triennale, ma è necessaria. È necessaria per approfondire in modo divulgativo, se posso usare questo termine, ciò che il Papa ha voluto dirci con l'anno della misericordia. E allora sono quattro passi. Il mio riferimento fondamentale nella Magistero, nella Catechesi, sono le virtù teologali, fede, speranza e carità. La fede, ci crediamo che Dio ci perdona sempre, è sempre disposto al perdono, che è Lui che prende l'iniziativa, dobbiamo solo sentire il moto della nostra coscienza davanti al male oppure ad una opposizione, a un torto subito o a un torto fatto. E allora se c'è fede, io credo che Dio mi perdona. Ultimo passo, siamo disposti a fare questo percorso? A metterci in gioco? Ecco il senso del pellegrinaggio, il senso della lezione divina, il senso poi fondamentale, non solo di attraversare la porta santa, ma di far seguire a questo gesto un'opera di misericordia, concreta. Oggi più che pellegrino dobbiamo parlare dei migranti, eccetera. Ecco come l'anno della misericordia si concretizza e diventa un invito. Ci siamo? O vogliamo fare solo delle belle celebrazioni dove tutti siamo contenti di aver fatto un altro segno di croce, aver sentito un'altra predica e basta. E' molto di più perché la nostra vita nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio è veramente in gioco. Prima ancora di leggere la lettera pastorale del Vescovo, questo documento è ancora più importante perché ci porta alla radice della nostra fede, ad una visione che probabilmente spesso abbiamo dimenticato confondendo o il perdonismo o quel senso di giustizia nel non perdonare, insomma tante motivazioni. La Chiesa, o meglio Gesù, volto misericordioso del Padre, ci ha dimostrato come il suo amore è andato nei confronti di tutti e ci dice diventate misericordiosi come il Padre. a Pescara si terrà il 13 dicembre il concerto per la giornata mondiale della solidarietà umana in collaborazione con la regione e l'associazione di Martin e con Fartigianato. Si è parlato anche delle sempre più numerose migrazioni verso l'estero degli anziani abruzzesi e del fenomeno dei nonni in fuga. Anziani in fuga dall'Italia anche dall'Abruzzo. Come regione e come assessorato anche all'immigrazione state pensando particolari misure proprio per questa categoria di cittadini? Il nostro lavoro è quello di far sì che questi abbiano dei servizi adeguati abbiano strutture adeguate per poter condurre la parte diciamo finale della loro vita in maniera positiva. Questa grande iniziativa verrà destinata a raccogliere fondi per la solidarietà umana per aiutare tutto ciò che serve a rendere la vita dell'anziano più diciamo consona le proprie aspettative all'interno della propria regione. Ci sono anziani che lasciano l'Italia ci sono anziani che vivono in Italia in condizioni poi difficili invece? Per quello che sono le competenze normative della regione Abruzzo intervenire in maniera che ci siano i servizi come dicevo prima adeguati ma anche per quelli che hanno difficoltà e che vogliono e vanno all'estero i cosiddetti nonni in puga noi dobbiamo ridurre questo fenomeno. L'ANAP è praticamente un sindacato dei pensionati quindi più che presentare tutte queste problematiche a chi oggi ci governa non può fare. Purtroppo così come per ogni tipo di sindacato non veniamo molto ascoltati come invece accadeva un tempo. Noi possiamo sensibilizzare l'opinione pubblica a far sì che si arrivi a queste modifiche che ci sono ma per tutto parlo della sanità parlo delle tasse di tutto ciò a cui il pensionato va incontro. Nell'ambito del progetto NetChat questa mattina al comune di Pescara sono stati illustrati i risultati riguardanti la tutela in Adriatico di cetacei e tartarughe marine. Assessore oggi presentate questo progetto NetChat che riguarda la tutela di cetacei e tartarughe nel mare Adriatico. Oggi diciamo che diamo i dati finali perché abbiamo concluso questo progetto importante ed è stata la dimostrazione che quando i finanziamenti europei vengono utilizzati al meglio l'Europa ovviamente può fare la differenza nella nostra città questo centro è diventato ovviamente un'eccellenza ma non solo sul territorio nazionale e come abbiamo avuto modo appunto di confrontarci con a Venezia nel convegno appunto finale di un progetto di un programma più ampio che la Commissione europea ha voluto finanziare perché crede nella tutela appunto dei mari dei cetacei e della biodiversità abbiamo dato davvero dimostrazione che l'Europa può fare la differenza. Un progetto straordinario l'unico progetto che ha come output e quindi la conservazione ma soprattutto la tutela dei cetacei e delle tartarughe un progetto che vede la regione Abruzzo e il territorio della regione Abruzzo e la città di Pescara è estremamente significativo nell'originalità nel conseguimento degli obiettivi oggi con le autorità di gestione devo essenzialmente constatare con grandissima attimizzazione il conseguimento dei risultati risultati che come giustamente lei ha specificato non solo limitati al singolo progetto ma devono interagire deve essere una capitalizzazione una clusterizzazione con gli altri progetti un mare adriatico che vede anche un'area trasportistica diversa e quindi una qualità dell'ambiente delle acque che rappresentano il cuore del mare adriatico e quindi di otto stati di cui quattro stati in preadesione in un momento geopolitico estremamente significativo per la Commissione Europea Adesso parliamo di istruzione Open Day al Liceo Scientifico Aeronautico di Corropoli sabato 12 a partire dalle ore 16 oltre alle classiche attività è stata presentata una novità per l'anno scolastico 2016-2017 in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo Forse c'è qualche problema con il servizio allora andiamo avanti con il giornale perché adesso ci spostiamo all'Aquila per l'Aquila Film Festival continua il cartellone oggi protagonista il rapporto tra informazione e manipolazione La rete che dà Gorà Teatro della Libere Orizzontale Comunicazione che diventa micidiale strumento di manipolazione di massa il ruolo insostituibile del lavoro del giornalista che ha l'abitudine di filtrare e verificare la notizia e il resto un baluardo contro l'invasione delle bufale e delle improbabili false flag il potere che nasconde le informazioni intimidisce i giornalisti con leggi bavaglio e querele temerarie tanti e tutti interconnessi i temi al centro del convegno su informazione e manipolazione oggi all'auditorium del Parco dell'Aquila uno degli eventi previsti nel cartellone della non edizione dell'Aquila Film Festival che proporrà fino al 18 dicembre una rassegna dedicata al cinema d'autore con proiezioni giornaliere convegni dibattiti workshop concerti degustazioni e molto altro protagonisti della prima sezione del convegno Ettore di Cesare consigliere comunale all'Aquila ma soprattutto una delle anime di Open Police associazione che della trasparenza della pubblica amministrazione ne ha fatto una ragione di vita e Valeriano Salve tra i massimi esperti italiani di social media il mestiere del giornalista dovrebbe anche essere quello di tirare fuori storie dai dati tirare fuori delle notizie dai dati e finché questi dati non sono a disposizione la disparità di informazioni tra chi ha il potere e chi non ce l'ha come dire pregiudica lo stesso funzionamento della democrazia quello che possono fare a nostra insaputa su come colossi come Google Facebook possono veicolarci le informazioni a loro scelta in maniera totalmente inconsapevole per gli utenti il fatto che raccolgono una gran mole di dati spesso per gli utenti è completamente trasparente questa cosa un utente non si rende conto di quanto della propria vita cede a questi colossi dell'informazione ed è un rischio insomma tira le somme il presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta i giornalisti stanno lì stanno lì a fare i cani da guardia nei confronti dell'opinione pubblica per disvelare queste cose a scaricare sull'informazione questi elementi di contraddizione significa fare un danno alla democrazia la legge Bavaglio sicuramente è un elemento che danneggerebbe in maniera fondamentale il diritto di critica Andiamo avanti adesso apriamo la pagina dello sport per le decisioni arbitrali della diciottesima giornata di andata nel campionato di Serie B in programma sabato 12 alle ore 15 Avellino Lanciano è stata affidata a Divano Pezzuto di Lecce con Villa e Santoro assistenti mentre Pescara Virtus Sentella sarà arbitrata da Daniele Martinelli di Roma con Boitegoni e Prenna assistenti e parliamo adesso proprio della Virtus Lanciano che ieri sera ha giocato contro il Cagliari tonfo interno per i frentani sconfitti per 1 a 3 dalla corazzata Sarda ancora in rete Antonio Piccolo arrivato a quota 7 gol ora ad Avellino i frentani dovranno assolutamente far punti la classifica infatti si è fatta pesante sono al penultimo posto il servizio di Andrea Costantini ecco qui le immagini che partono con la Virtus Lanciano che aveva tante assenze Bacinovic Amenta Ferrari Di Cecco Mammarella dunque in difesa c'è Di Matteo terzino sinistro ancora regione centrale a centrocampo Bastola Paghera e Crecco in attacco c'è Di Francesco e non Marilungo a comporre il tridente con Piccolo e Padovan nel Cagliari ampio turnover da parte di Rastelli con Cerri Lex di turno e Giannetti in attacco Farias a supporto Teio a centrocampo Barreca Balzano e Salamon le novità nel settore difensivo qui c'è un retropassaggio di Barreca per Storari un retropassaggio che viene giudicato volontario quindi c'è una punizione a due che Piccolo tira sulla barriera e al tredicesimo c'è già il vantaggio del Cagliari il cross di Farias Cucino scavalcato sul secondo palo Teio si coordina splendidamente gran rovesciata nulla da fare per Casadei gran gol di Teio sull'assist di Farias dunque partita difficile per la Virtus che va ancora più in salita per via di questo gol dopo 13 minuti di gioco gran gol di Teio poi ancora Farias scatenato percussione centrale dribbling e poi un tiro un po' strozzato che Casadei riesce a respingere rivediamo salta qui l'anti Farias conclusione respinta da Casadei poi la Virtus che ci prova con l'azione di Padovan il suo dribbling la sua sterzata poi il tiro di Di Francesco che viene contrato da Salamon ecco qui Federico Di Francesco novità di questa serata ma poi arriva il raddoppio del Cagliari il minuto il 34esimo il colpo di testa del polacco ex pescara Bartosz Salamon il cross di Di Gennaro pennellato con il sinistro torsione vincente del difensore al primo gol in maglia cagliaritana siamo nella ripresa la Virtus Lanciano comunque non demorde anche se il primo tempo non è stato granché tiro dalla distanza tentato da Luca Di Matteo la parata di Storari poi il gol della Virtus Lanciano il gol che riaccende delle speranze della Virtus minuto 61 schema lo vedete Paghera Puccino e poi il sinistro di Piccolo sorpreso Storari che aveva piazzato solo tre uomini in barriera neanche il tempo di sperare nella rimonta che il Cagliari però chiude il discorso ancora Farias a fare affette la difesa della Virtus arriva sul fondo a ridosso dell'area piccola facile facile il tocco sottoporta di Alberto Cerri il grande ex proprio al Lanciano proprio al Biondi segna il suo primo gol con la maglia del Cagliari esulta e suscita la stizza dei tifosi di casa ma poi dirà nel dopo partita ci tenevo tanto il mio primo gol in maglia Cagliaritana non segnavo da tanto tempo e non è stata una esultanza priva di riguardo verso la Virtus Lanciano era la grande voglia di segnare punizione di Lanini che ha fatto molto bene quando è entrato in campo le spinge Storari poi Marilungo preceduto forse con un intervento falloso rivediamo la parata di Storari sulla punizione di Lanini e poi un intervento ai danni di Marilungo la Virtus chiude in 10 uomini per questo intervento scomposto da parte di Di Matteo su Giannetti cartellino rosso per l'ex Terramano che si fa male e poi quando si rialza deve subire la decisione disciplinare del direttore di gara espulso dunque Luca Di Matteo che sarà squalificato per il match di Avellino di sabato prossimo poi ancora un tentativo di Cerri dal limite dell'area palla sopra la traversa arriva il fischio finale dunque la Virtus Lanciano soccombe al Biondi contro il Cagliari Adesso scendiamo negli spogliatoi per le interviste del dopogara andiamo ad ascoltare il tecnico dei frentani Roberto D'Aversa al microfono di Paolo Renzetti Non si può dire che abbiamo fatto tutto al massimo di quello che potevamo sotto l'aspetto dell'impegno sicuramente è chiaro che qualche errorino l'abbiamo commesso però devo dire che la squadra comunque è stata viva per l'arco di tutta la partita nonostante di fronte avessimo un'ottima squadra una squadra forte anche quando siamo rimasti in dieci comunque ha cercato comunque di infastidire il Cagliari e bisogna guardare in questo momento lo so che una posizione di classifica non ci fa star sereni però per quanto riguarda me devo guardare un aspetto positivo che comunque la squadra è viva e dispiace perché è la prima sconfitta casalinga anche se viene contro il Cagliari c'è da maturare però sotto l'aspetto delle prestazioni fuori casa perché se non maturiamo è difficile raggiungere il nostro obiettivo se andiamo a analizzare un po' la partita lì abbiamo preso la circostanza del gol dove eravamo tutti dietro la linea nella palla e siamo stati un po' ingenui sul 2 contro 2 che si è creato in fascia e sulla situazione del cross il giocatore era solo però poi diamo bravura anche merito al giocatore che ha fatto un bellissimo gol è chiaro che lì invece dopo il secondo tempo siamo stati più aggressivi siamo andati alla ricerca un po' più alti li abbiamo messi in difficoltà però è impensabile contro il Cagliari fare una pressione così spudolata per 95 minuti probabilmente avrebbe preferito da Versa affrontare il Cagliari con qualche scelta in più ma io credo che i ragazzi che hanno giocato hanno fatto il massimo è chiaro che mancavano dei giocatori importanti però devo dire che quelli che li hanno sostituiti hanno fatto bene il pensiero deve essere sempre quello propositivo è positivo in questo momento sinceramente non me la sento di stare a dare delle colpe o a mortificare questi ragazzi perché sotto l'aspetto dell'impegno in questo momento stanno andando tutto è chiaro ripeto che stiamo commettendo a volte commettiamo degli errori però bisogna sempre rimanere equilibrati la strada è ancora lunga adesso parliamo del Pescara battere la Virtus Centella per allontanare i venti di una eventuale crisi Oddo per la sfida con i Liguri medita cambiamenti e si affida la voglia di riscatto dei suoi ragazzi voglia di riscatto espressa anche dalle parole abbastanza critiche di Sansovini è un componente di sangue di cattiveria di saper stare in campo da squadra di serie B quello credo che è quello che un pochino viene meno il nostro piccolo grande difetto è quello lì che dobbiamo callarci un pochino più in questa realtà ripartiamo dall'analisi della partita vediamo dove abbiamo sbagliato e che i nostri errori diventino dei nostri pregi lavoriamo perché questi errori non si verificano più o si verificano il meno possibile tu hai visto tante stagioni hai superato momenti delicati questo è diciamo il periodo più difficile della stagione è vero che si supera lavorando però credete ancora nei vostri mezzi perché questo sembrava il momento più facile visti gli avversari invece la B è tutt'altra cosa io lo sapevo che questo era il momento più difficile altro che quindi io vi posso dire che dentro lo spogliatoio che ci crediamo o no abbiamo una voglia di scendere in campo sabato incredibile veramente arriva un'altra squadra in forma arriva un'altra squadra in forma guidata bene con giocatori molto validi giocatori di categoria prepareremo la partita al meglio non vediamo l'ora di giocare poi sarà ancora più bello vincere perché significa che a quel punto il gruppo avrà dato risposte importanti adesso ci occupiamo del Teramo Calcio mentre sembra essere tornato il sereno tra l'allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini e il patron Campitelli la formazione bianco-rossa continua a vivere un momento no soprattutto sotto il profilo dei risultati per uscirne bisognerà battere nell'ultimo incontro casalingo del 2015 in programma sabato alle 15 al Bonolis la Pistoiese incontro che sarà diretto da Alessandro Pietropaolo di Modena coadiuvato da Maccadino e Mazzei ascoltiamo in questa intervista il centrocampista Stefano Amadio ma è un momento difficile sicuramente bisogna rimboccarsi le maniche pensare solo al campo cercare di allenarsi a testa bassa e reagire il problema nostro evidente è che fuori casa stiamo facendo male approcciamo le partite un po' così pure i primi 20 minuti di Lucca insomma non erano andati benissimo ci hanno messo lì poi fortunatamente avevamo fatto gol e quindi bisognava comunque cercare di mantenere il risultato quantomeno quando vai sotto provare a riprenderla e come all'Aquila è mancata la reazione e questo non può andare bene il campionato è equilibrato e le partite te le devi giocare tutte alla morte perché comunque è molto livellato e non è facile fare il risultato contro nessuno è chiaro che questi scontri retti vanno affrontati in maniera diversa soprattutto fuori casa e vanno giocati alla morte perché ormai i punti sono quelli che sono e a noi ci servono come il pane in casa approcciamo le partite meglio secondo me siamo più combattivi e cerchiamo di imporre il nostro gioco penso che quello che ci manca appunto è la mentalità fuori casa che è evidente comunque iniziando non mi aspettavo di stare in questo in questo posto in classifica perché so benissimo le capacità di questa squadra del mister e la differenza con l'altranno è troppo lampante mi dispiace insomma il mister penso è imprescindibile per risalire la classifica e l'altranno ha fatto la differenza perché con poche settimane ci ha insegnato come giocare con un modulo totalmente nuovo e penso che anche quest'anno sarà decisivo appunto per risalire la classifica scendiamo in serie D nel recupero della gara non disputata lo scorso 27 novembre a causa del maltempo e dell'inagibilità dello stadio Guido Angelini i neroverdi hanno sconfitto i marchigiani della Folgore e Veregra per 3 a 2 al termine di 90 minuti combattuti in evidenza il solito Dos Santos e il neoacquisto Fiore e domenica al Guido Angelini arriverà la capolista San Benedettese per sfidare il Chieti in servizio di Andrea Costantini al termine di una gara emozionante ricca di gol il Chieti fa suo il recupero con la Folgore Veregra per 3 a 2 agganciando così al quinto posto proprio gli avversari di giornata gran secondo tempo per i neroverdi contro un avversario che non ha colto le difficoltà dei teatini nella prima frazione il tecnico di casa Ronci da fiducia al 3-4-3 Dos Santos affiancato da Varone e Bocchino e Wansiha e Massimo in mediana in panchina Fiore tesserato nelle ultime ore per lui un ritorno 4-3-3 per l'undici Veregrenze con il tridente pedalino Padovani Naziconi avvio shock però per il Chieti che dopo 4 minuti è già sotto sugli sviluppi di un corner Fatone manca la presa Padovani ne approfitta e calcia Vitale salva sulla linea con l'aiuto del Paloma nulla può sul tapin in rovesciata di Gentile Folgore avanti 0-1 al decimo ci prova anche il bomber pedalino con un destro deviato in corner della difesa il primo guizzo nero verde targato Varone al minuto 14 destro potente ma alto il Chieti è in difficoltà squadra slegata in confusione dopo la mezz'ora Fatone spaventa il pubblico dell'Angelini poi si riscatta al 32esimo quando alza sopra la traversa il tiro potente di Traini la Folgore però non ha l'istinto del killer e al 38esimo manca clamorosamente il raddoppio con Padovani che getta le stelle l'assist dalla destra di Calvarese una delle leggi più spettate del calcio allora si materializza un minuto dopo ed Ivan Varone tira fuori dal cilindro un autentico gioiello destro a giro che fulmina Marani 1-1 con il quinto centro dell'ex giocatore di San Marino è Savona finale di tempo nervoso dopo la punizione di Naziconi il tecnico di casa Ronci viene allontanato dalla panchina dal direttore di gara 5 di Pistoia nella ripresa il Lecchietti cambia Piglio e al secondo minuto Dos Santos doppia in velocità Arcolai ma Marani salva in uscita dodicesimo tocca a Fiore in campo al posto di Zanetti e per l'esterno Vastese è un ritorno scintillante intanto per un soffio non arriva sull'invito di Dos Santos la spinta del Chietti si fa sempre più forte anche se il neo entrato Mandorlini semina il panico in area nero-verde ma al ventesimo arriva il sorpasso del Chietti con un giocatore della Folgore a terra Massimo piazza un filtrante per Dos Santos che dribbla Marani e insacca il 2-1 nono gol per il brasiliano con Corsa sotto la Volpi la partita si fa ancora più bella la squadra Veregrenze va vicina al pari due volte con Pedalino prima di testa poi il centroavanti si fa largo di forza ma Fatone si salva distinto sul capovolgimento di fronte Serpentina di Fiore che scheggia la base del palo al trentatresimo arriva il nuovo pari corner di Nazziconi Pedalino sovrasta sbardella e fa 2-2 Caparbi il centroavanti all'ottavo centro ma l'ultimo colpo di Regne del Chietti al quarantunesimo Fiore inventa e mette Dos Santos davanti a Marani il brasiliano non sbaglia doppietta e rete partita il debutto di Fiore sarebbe ancora migliore se Marani non gli sbarrasse la strada al quarantacinquesimo finisce 3-2 e il Chietti si prepara nel migliore dei modi ad ospitare domenica la capolista San Benedettese è tutto per questa prima edizione del TG6 grazie per averci seguito fino ad ora io vi ricordo la seconda edizione alle ore 19 arrivederci grazie a tutti